Benvenuti in un nuovo video di Cioppala Gallina! Eeeh... Inquadra le galline. Dobbiamo riuscirne a prendere una per una. Vai. In una sola botta. Non la so. Ma quanto? Vai, quando vuoi. Hai già perso. E va bene, va bene. Devo prenderle tutte e tre nella stessa mano. Sono difficile. Ok, vai, vai, vai. Vi faccio il trucchetto. Eeeh... 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 Non le uccidere, non le uccidere queste. Non le uccidere queste. Aia. Eeeh... 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 Quanto ci metti per prenderne una? Una l'ho preso. Oh, wow, ce l'hai ammaestrate. Sì, prendila bene. Prendila bene. Piezza. Prendila bene, poveraccia. Va. Ok, bene. Basta, basta. No, dai. Che devi fare? Devo prenderne almeno altri due. Basta. Basta. Bouh. Dai. No. Soppa, soppa. Stavolta hanno vinto le galline. Lo schuzie. Ho. Ciao.